Mino Favini, l'emozione di ritornare allo stadio comunale di Bergamo, a rivedere giocare l'Atalanta e rivedere anche in campo dei giovani che sono cresciuti nel vivaio atalantino. Sì, sono contento, innanzitutto per l'Atalanta e poi per il numero dei giovani che sono entrati, grazie al coraggio anche di Gasperini, che stanno facendo bene, stanno dando una mano importante, ma ho visto giocare la squadra con un'intensità e una facilità anche impressionante, quindi spero che tutto vada per il meglio. Mino Favini e il calcio sono una cosa sola, da sempre. Sì, vivo per quello, ho vissuto tutta la mia vita pensando al calcio e dico la verità che mi manca anche un poco, però sono felice, seguo naturalmente giorno per giorno gli allenamenti e le partite dei ragazzi, vedo che si stanno comportando bene e sono contento perché non solo sotto l'aspetto calcistico, ma anche sotto l'aspetto umano e personale, i ragazzi hanno risposto nel modo dovuto. Quindi Mino Favini l'Atalanta la segue comunque quotidianamente? Io la seguo tutti i giorni naturalmente, ringrazio tutti perché è famiglia per casa innanzitutto, naturalmente tutte le persone che mi hanno manifestato affetto. Mi fa piacere aver ricevuto il riconoscimento da parte di tutti i tifosi dell'Atalanta e quindi sono felice. Grazie. 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 Grazie.